Eri eccoci back dal mio ciao er in file salve a tutti blazers non abbiamo tempo quinto episodio giusto dobbiamo scappare ragazzi dobbiamo uscire tantissimo Sì questo usiamo tu adesso e sinistra a sono in due sono in due si si sai che Noi ripeto io non ho blocchi cazzo uso legno ti do questo No no ce li ho ho la pietrisco Ah ok grazie Ti aspetto Sì Tu hai da mangiare? Sì signor ho 31 bistecche Ma mi hai chiuso? Tu fai puh uomo Io pensavo di potermi fidare di te maledetto Ma sì It was a mimino No non era un mimino io mi sono fidato e tu mi hai tradito Ora ci ucciderò No eri in blois Hai quattro cuori e mezzo tu tra l'altro Sì 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 Devi farti questa mela Sì ma possiamo scavare tu hai altro oro hai detto quindi possiamo tirare via facilmente le mele Ci le ho già le mele ci le ho già Quante ne hai? Sei Ok ne hai un foto va bene Ne hai un foto Ok io cioè Se non ho fatto un bel inizio Allora Aspetta un attimo Che facciamo il carico di alcune cosiucce interessanti Abbiamo tirato su tutto? Sì Ok in cento in table Dobbiamo farci una base E pensare di smeltare tutto Ma allora Tiare mele e ci spostiamo dai Ok mele ne abbiamo già sei hai detto no? Sì ma fatti la mela d'oro Se mi dai quattro di quattro lingotti e la mela faccio Ok Ok quella ce l'hai già tu Tieni No la mela mi serve No mi serve la mela proprio Hai altri lingotti poi? No no lingotti No Ho quattro da smeltare Dovremmo tornare giù Volendo Facciamo in tempo? Forse La mela non so se me la tengo per dopo non si sa mai Ok Hai già fatto quindi? Ho già fatto ho già fatto ho già fatto Sì Va bene allora io ti direi di spostarci verso 00 che è dalla parte opposta in realtà Ok Ci creiamo una stazioncina nascosta e ci prepariamo le cose Ok buono Riusciamo a craftare cose? Sì pozioni di? Cacchio non hai semi di melone per sbaglio vero? No Perché? Di anguria Ci siamo potuti fare le cose di instant health Ah no 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 Caccato Possiamo fare speed E Hai dei funghi? O hai visto swamp in giro? Swamp Sì No Ok come non ho detto Là ce n'è una Ho buttato via lo spider eye Potevamo fare veleno Io lo spider l'ho buttato via Cazzo Sto semplicemente cercando di guadagnare tempo sulla Allora la barrier stringe in In tre episodi In tre episodi Allora il settimo stringe del tutto Ok quindi Se ci mettiamo a 500 abbiamo potenzialmente Un episodio e mezzo Circa Sì 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 No no Un po' di meno perché stringe Fino a 200 per 200 da 2000 per 2000 Quindi sono Tipo 900 per raggio Un po' di più Deve stringere meno quindi abbiamo più tempo Sì vabbè vabbè più o meno sì Allora Tiar ascolta Qua Dove sei? Sì è entrato a voce Eccoti sono dietro di te Ok Scaviamoci un buco direi Da qualche parte Tipo qua Ok Piace E ci facciamo tutto quanto Fai il bravino Ti ho regalato una mela praticamente Infatti No con te non voglio fare l'infame Ah comunque Comunque cioè Non so se l'ho più detto poi Ma è stato magico Che alla fine siamo riusciti A ottenere la verga Grazie alla testa di Suri Grazie alla testa di Suri È vero cacchio Perché la testa di Suri Vabbè mi ha permesso di fare Il primo attacco Stavo per creparci E mi ha Wither Mi ha salvato la vita E ho finito i picconi Nice Insomma è stato Magico davvero È stato fico Hai i fornaci pronti te? Ne ho 7 Ok Le ho appena craftate Sono scemo Quindi vabbè niente Smeltare Un po' di carbone extra Incudini Crafting table Ok incudine Enchanting Ce l'ho qua Ok Enchanting Enchanting Incudine Ok Va bene Hai ferro extra? Devo cuocerlo No tantissimo Tipo 39 di ferro extra Io devo farmi una pisciata Super solida Anch'io Vai E poi Ok Non è che tipo Mentre vado a fare La mia pisciatina tattica Mi incuni ferro Sai una cosa Simo? Sì Andiamo insieme No 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 È meglio di no Ok Allora tranquillo Rimango qua Altrimenti Puoi cacciarmi dalla sega Ok Aspetta Hai chiuso con la terra lì? Sì sì È terra È terra Ok Io mi trovo Un Che poi quali serie? Non ci sono più serie Tier Dettagli Vado Vai in bagno Però Scusami Qua va bene tutto Ma Cioè Vogliamo Puoi andare in bagno? Sì Civilizzato Non metterti Il cazzo di cobblestone Mettiti la porta Per favore Grazie Ho sprecato Sei di legno così Devo cuocere il ferro Devo cuocere il ferro Tanto ciao ragazzi Del canale di Eren Mi vorrei spammare cose Ma non lo faccio Perché altrimenti sarebbe Poco carino Nei confronti di chi Segue la UHC di Eren Quindi Cazzo non ho il carbone Vabbè Usiamo il legno Sapete cosa? Uso l'ultimo livello Che mi rimane Per farmi efficiency Sul piccone Fanculo Non fa la differenza? Non posso farlo Molto bene Posso incentrarmi il libro? No Ehi Ciao Ciao Sono qua Ti ho fatto la porta Perché era un po' barbaro Grazie Per andare in bagno Ho messo a cuocere Ferro Oro E cose varie Mi raccomando Ok Io ho un po' Un problema di Sì adesso rubo tutto E me ne vado No Fa il bravo Mi raccomando Ho un problema di Di esperienza Ora che ci penso Anch'io Infatti ho iniziato a scavare Verso il basso Per andare in caverna Se vuoi andare di nuovo Vai Io Arrivo subito Vabbè ragazzi Allora quello che stiamo per fare Non lo commenterò Voi seguitemi e basta Allora ragazzi È arrivato il momento Delle storie Di TBR Sapete perché TBR deve andare In bagno Così spesso Perché Ha un problema Di prolasso Di norma Il prolasso È quello Nel di dietro Il cosiddetto Prolasso anale Nel suo caso Gli è prolassato il prepuzio Dopo la sua Famosa operazione Che tutti conoscete Ehm Pertanto è Sì è un po' Un problema Perché Oltre Ad avere una forma Decadente E ignobile Dovete considerare Che insomma Urinare Non è proprio Fantastico Per lui Quindi C'è questa cosa E Sì Ogni tanto Devi andare in bagno Comunque Simo Tu scherzi Ma da quanto Sono stato circonciso Io davvero Devo andare in bagno Più spesso del normale Ah Lol Ehm Sì salve Ma si sentite Che ti ho avuto Stronzo Lontanissimo Sì Si è sentito Grazie Ero seduto in bagno Comunque tutti Gli enchantment Che sto facendo Mi costano un fotto Di soldi Cioè di esperienza Quindi tanto Io se non ti dispiace Raccolgo dalle fornaci No no tranquillo Tranquillo Io ho power 3 E protection Su tutto Sharpness 2 Potenzialmente Tra poco Quindi non sono messo Quindi non sono messo male Semplicemente Quindi fai pure Semplicemente scendo Anch'io E cerco Ah Ele non è l'elemento addosso Lo so Hai ragione anche tu Ho preso un po' di carbone Ah ma qua siamo all'aperto Lo sai? Sì lo so Lo so Lo so No no Qua Lo levino A questo punto Conviene fare una cosa Fatti i livelli Che ti servono Per l'encantamento singolo E poi riparti l'azione Quello che sto facendo È quello che sto facendo C'è altro ferro C'è uno scheletro C'è uno scheletro qua Merda Ti ha colpito? No Non ho lo scudo Ok Posto Dobbiamo trovare galline Ora che ci penso Eh galline E selce Selce Ho la ghiaia Comunque Quindi si farma Ok Ok Qua C'è del carbone Ok Per dire Se io riesco a farmi Sharpness 3 Oh le pozze Tier le pozioni Eh Eh Cazzo è vero Diamoci una Una move Giusto Giusto Cosa possiamo farci? Possiamo farci speed Ora come ora è Dobbiamo farci forza Eh no Non possiamo con forza Perché no? Perché No aspetta Si fanno quella blaze Con la blaze powder O con la blaze rod Vediamo Ok google Pozione di forza Perché ci serve anche Per l'alambicco Per tipo Usare il carbone L'alambicco Però se non l'abbiamo preso Abbastanza verde Sarebbe un bel fail Io te lo dico Eh Possiamo fare Suficiente forza È la cosa più importante Forse La progetto di protection Non mi interessa Però Allora Come iniziare Il libro Pozione di forza Serve la polvere Allora posto uomo Se serve la polvere Allora posto Dai però Dobbiamo preparare l'alambicco Ce ne hai tu le verghe Eh Come si faceva Lol Pietra liscia No Tre di cobblestone Ok Tre di cobblestone E l'alambicco Al centro E la In alto La verghina Ok Sì La verghina Questo qua ti fa l'alambicco Andiamo a sveltare Della sabbia Vado a prendere Della sabbia Tranquillo Ok A me servono Altri livelli Intanto Controlla Già che sei fuori La barriera Che punto è Non l'ave Ho scritto Eri tu? No C'è qualcuno Raga Era Tano Sembrava Le shh di Tano Ok Tano palesati Tano ti ho sentito Se ci sei Tano merda Vedi qua che c'ho Sharpness 8 E Fire aspect 10 E ti avvicini Ti one shot Tano cazzo Ci spi Coglione Guarda Guarda Con Bisunto Ed Emerald In giro Cercano di essere Simpatici Come se noi non sapessimo Che sono insieme Simo mi allontano Perché devo prendere La sabbia nel deserto Ok Sai dove è il ritrovo Beh Questa è una situazione Spicy Perché se siete In ascolto Comunque Non potete parlare Neanche tra di voi Se no vi sentirei Quindi Mi sentirei anch'io Maledetti Ah giusto Ok Ti sento Ho appena nel deserto Che ti sento lo stesso Eh infatti LOL E dobbiamo stare Molto attenti A questa cosa Tier Anche se Cioè Comunque Io te lo dico Tano O chi per voi Noi siamo Eren e Tier Ciao Sapete cosa vuol dire questo Possiamo Scontrarci O potete allearvi Con noi Ma probabilmente Uno di voi di troppo Quindi Esatto Eventualmente Fate la vostra scelta Uccidete Anzi Fammi vedere un po' Bisunto E metano Sono quelli che hanno Meno cuori Nel vostro team Ne killate uno dei due Vi prendete la vox aurea Vi conviene Ci facciamo un mega team Easy Easy Poi fate voi Insomma Cosa è che devo fare io adesso Ah si Io devo Devo smeltare queste Mi ho presi 13 Che fastidio Devo craftare altre cose Ok E io Ah giusto Devo unirmi Per farmi iniziare A farmi le cose Con protection 2 Bravo Ok Ok Molto bene Molto bene Sì però uso L'attrezzo sbagliato qui Ok Protezione Protezione Molto bene Vabbè Per ora è easy La situazione Sì 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 Per ora ci sta Cioè è un cazzo Di scheletro Aspetta che lo richiudo Con la terra No ecco Tranquillo Vabbè Per lo scheletro Uomo Alza lo scudo E via Sì sì Lo sto già facendo A parte che mi traccia male Ah Eren Se hai bisogno di una petturina extra Per fare tipo Protection 2 Sulla petturina L'ho già craftata La petturina extra Che ho fatto col libro Io alla fine Ah giusto Cazzo i libri Io posso farmene un botto Di libri C'è un creeper No il creeper Forse Colpicilo E parati Tanto non ti dovrebbe fare danno L'esplosione Se non gli sei troppo vicino Vabbè ma Possiamo anche evitarlo Il creeper dai Ovvio Nel senso che se vuoi evitarlo Evitalo Non è una cosa stupida Io sto cercando un po' di cose Però qua c'è un canyon C'è un canyon C'è un canyon C'è un canyon davvero C'è un canyon con tre creeper dentro No Ah santo cielo Eh qua Sì bisogna un attimo Capire Sei tu lì? Sì? Sì 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 Perché si ioinca tutta l'esperienza Maledetto C'ho bisogno di farmi Anch'io sharpness 3 Uomo Eh io c'ho sharpness 1 Uomo Hai per caso un arco tu? Zero Per il momento Devo fare Volendo ti posso dare Tete quante le stringhe Per farti power 3 Pure te Ho anch'io l'arco C'è ho anch'io le stringhe Scusa Ma devo lavorarci un attimo Ok Guarda te le posso tutte Io volevo farmi power 4 Ma mi sa che Sono tanti livelli Non faccio in tempo Quindi se vuoi farti È possibile Cioè mettile in base Mettile la cesta Mettile la cesta giusto Per me è impossibile Cioè Io adesso cerco di farmi Full protection 2 Almeno Anch'io Anch'io Come sempre Per la 1 12 Sbaglio Bisogna fare per forza Il calderone Non lo so Perché mi sembra Che tu non possiamo Prendere l'acqua Dalle fonti Così a caso Proviamo C'è stato l'eco C'è stato l'eco C'è stato l'eco Hai sentito? No Oi Ci stanno spiando davvero Questi Oi Ma fatevi una vita Passa Devo fare le cose Le bottigliette Ce l'ho Ce l'ho ce l'ho ce l'ho Ok No si possiamo fare Si può fare Ok Aspetta Ah io ho la Netherworld volendo Si Allora io converto Quell'altra Eh no Fai Mettizzato Il blaze powder Ne metto una Sì Vai con la Netherworld tu L'hai già messa Cazzo manca Lo sto mettendo Manca cosa 3 minuti Alla fine dell'episodio No mancava Mancava una bottiglietta Tia Ah minchia Sì Di 8 minuti Si può fare Oh tech È morto per un creeper Oh tech No tech Tech Chi Non No E Dani Chissà E Dani sarà da solo adesso Non è detto Potrebbe essere con qualcuno Oh tech Io comunque ogni tanto sento parlare Allora Vedi che non sono stronzo Secondo me c'è qualcuno C'è Potrebbero non sapere che ci siamo Abbiamo strength qua E va bene Se riusciamo a trovare della redstone Lasciamola lì Se riusciamo a trovare della redstone Ci facciamo No Lasciamola lì È un po' E cazzo effettivamente Mi pesa un po' come cosa Effettivamente Non ci avevo pensato a questo piccolo dettaglio Io provo a uscire un attimo Ok Tanto non so se vogliamo rispostarci Piccato non c'è più nulla Qua c'è uno zombie occhio E uno scheletro Se ne sono andati Sono sotto di noi probabilmente Sì Non mi piace la cosa Vado un attimo fuori dai Stavi dicendo tu? No no che Cioè Non mi siamo messi benissimo Per un attimo che adesso sto combattendo contro C'erano due scheletri LOL Pezzo di merda Dove sei venuto fuori tu? Sono un attimo fuori eh Sì 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 Ok lascio che Lo zombie Gli zombie si vedano quello dello scheletro Tier Mi dispiace Lo devo fare Addio No Eren Addio Eren no Rip No Eren sei mi infame Ti sto trollando Scemo Sono qua Che c'è le tele Le hai lasciate qui Sì Sei un folle totale Sei Ah ok È finito l'episodio Ciao Alla prossima Ciao Te l'ho fatta Ciao 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 Grazie.